Un inizio di stagione davvero super positivo per il tennis tavolo Nocera. Il club del patron Giovanni Landino, che aveva concluso la scorsa stagione con una sofferta ma meritata salvezza in C1, stentando però nelle categorie regionali, quest'anno sembra decisamente non volersi più fermare. Nel campionato nazionale i pongisti nocerini, partili con il chiaro intento di salvaguardare la categoria, migliorando il piazzamento finale della passata stagione, hanno ottenuto due successi su tre. Le due vittorie sono arrivate alla palestra Marco Polo di Nocera Superiore contro Catanzaro e Reggio Calabria, in entrambi i casi per 5 a 4 e in entrambi i casi dopo una maratona durata 4 ore. Benissimo al neo-rivalo d'atore del greco Alessandro De Luca, che ha collezionato 4 partite vinte su 6. In grandissima crescita ed in forma, Roberto Ambresino, una delle piacevoli sorprese di inizio stagione. Il veterano del gruppo Francesco Longobardi, che invece cresce di condizione partita dopo partita. Questo sabato i nocerini ospederanno il Messina, con l'obiettivo di mantenere ben salda la seconda posizione. Se in C1 la squadra sta ottenendo ottimi risultati, si può dire lo stesso anche della D1. Grazie all'inserimento di capitano Rosario Bigliardo in questo team, insieme ad un altro degli ultimi arrivati Andrea Massinelli, oltre che dell'esperienza di Raffaele Berritto e del giovane Cennaro Sica, la compaggine rossonera ha cambiato decisamente i piani iniziali della salvezza e dopo 4 giornate si trova al comano della classifica e a punteggio pieno insieme ad Avellino. I rossoneri hanno concesso pochissimo fin qui ai propri avversari, con Massinelli e Bigliardo imbattuti, avendo vinto rispettivamente 9 e 7 partite in campionato. Meglio anche la D2 rispetto alla passata stagione, con i giovanissimi atleti nocerini provenienti dalla cantela del TT, che insieme all'esperienza di Giovanni D'Ambrosio si stanno facendo ben valere in stagione. La D1 è un campionato sul quale inizialmente abbiamo puntato solamente per cercare di portare una salvezza tranquilla, poi durante la stagione con un innesto importante in C1 abbiamo portato Bigliardo, con cui abbiamo vinto già anni fa la serie C2, l'abbiamo portato in serie D, quindi questo giocatore ci ha permesso di essere agevolmente al primo posto, perché giocatore di categoria superiore e poi il ritorno di Massinelli, insieme all'aiuto di Berritto e di Sica, ci permettono comunque di essere lì al primo posto. Massinelli erano diversi anni che non giocavo, ma sicuramente un giocatore di categoria superiore, ha affrontato diversi campionati di C2 e di C1 a Perugia. Quest'anno abbiamo avuto l'innesto di altri ragazzi, ovviamente il lavoro all'inizio non ha la finalità di portare subito i ragazzi alle competizioni, per i ragazzi che avevamo già da un anno, stanno già diciamo competendo, quindi hanno fatto competizioni come torneggi giovanili, individuali e anche campionato di serie D e stanno in verità, stanno dimostrando diciamo di avere le capacità per reggere anche il primo campionato. Ci stiamo impegnando al massimo come sempre, siamo qui infatti a preparare la partita, ci siamo allenati anche oggi. Questi primi mesi sono stati belli, impegnativi, ci sono serviti per affiatarci ancora di più con Alessandro che è nuovo, a confermare le amicizie e i rapporti con Francesco e sull'onda dell'entusiasmo stiamo continuando ad allenarci e a provare a fare il massimo possibile in campionato. Questo primo anno che gioco nel Tittino Cera e devo dire mi trovo molto bene, un bell'ambiente anche con i ragazzi della mia squadra, ci conoscevamo già da tempo, avevamo anche avuto modo di allenarci insieme, comunque nei torneggi ci conoscevamo, quindi è stato un piacere iniziare questo campionato con loro. Siamo secondi a due punti dalla prima, diciamo quindi un obiettivo che forse all'inizio stagione non era pensabile. A livello personale devo dire che ho iniziato discretamente bene la stagione, ho fatto buone vittorie sia nei tornei individuali che nel campionato a squadra e spero di migliorarmi anche nel giro di ritorno. Sì, diciamo che grazie anche all'innezzo di Alessandro stiamo facendo davvero molto bene e devo dire la verità non ci aspettavamo di partire così bene. Diciamo che considerazioni verso Messina, immagino c'è una partita tosta, equilibrata come tutte finora, sono finiti tutti i 5-4, tutte battaglie, però penso possiamo far bene perché ci vedo in forma in questi allenamenti e sempre al top. Spero di riuscire un pochettino a guidare l'oro dato che sono da più anni qui e quindi in questo senso di appartenenza per il titino c'era. Tutti qui in palestra a supportarci per questa vittoria contro il Messina.